Questo è il dottoressa Andiamo alla cieca, ah va bene Guardate avanti Si 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 Oh Ah Oh S., ah e 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 dei punti ragazzi ciao 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 ragazzi e 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